Elvis Abruscato, esordio con vittoria la domenica ideale? Domenica ideale, dopo un bel blocco di lavoro nel ritiro, belli amichevoli, buone partite anche in Coppa Italia quindi siamo partiti assolutamente con il piglio giusto e con una bellissima vittoria. Migliori partita dopo partita, hai sfiorato anche il gol con una conclusione che se fosse entrata sarebbe stato un euro-goal. Come ti senti? Lo sento bene, sto crescendo anche di condizione, il tiro doveva essere un gol della liberazione invece è stato un po' frenetico e quindi non è stata un'ottima conclusione però c'è la forma fisica, sono felice, c'è entusiasmo, questa è la cosa fondamentale. E sabato si va a Novara? Sabato si va a Novara con una squadra tosta, una squadra che deve affrontare colpiglio giusto la Frera Pissalò. Senti, cos'hai detto a Broli dopo il gol? Consiglio? Porta le paste? Qualcosa di scaramantico? No, no, io ho dato due o tre schiaffi per continuare su quello che facciamo con lui. Senti.